Eccoci, buonasera, bentrovati e bentornati a questo appuntamento mensile che appunto molti di voi conoscono, la presentazione del volume di Limes che in questo mese ovviamente è incentrato sulla Russia che cambia il mondo, questo è il titolo del volume e questa sera parleremo evidentemente dello scoppio del conflitto in Ucraina, ma parleremo anche delle conseguenze e dei rapporti tra Russia e Europa, Russia e Cina, Russia e Stati Uniti. Sono con noi questa sera Federico Petroni, che è uno degli analisti di Limes, più frequentemente ospiti di queste nostre presentazioni e collegata con noi c'è Orietta Moscatelli, eccoti qua, buonasera Orietta, che non sentiamo ma sentiremo a breve, eccoci qua. Buonasera, spero che mi sentiate. Ti sentiamo, ti sentiamo specialista peraltro di Russia, infatti avevamo presentato insieme a novembre o dicembre dello scorso anno un numero di Limes precedenti in cui si parlava dello scenario ucraino in prospettiva. Allora, comincerei da te Federico, perché l'idea è stata proviamo a tracciare qualche punto, qualche linea di analisi sull'attualità, poi andiamo in profondità sulla base anche dei saggi che sono contenuti nel volume e poi nella parte conclusiva ci sarà spazio per le domande del pubblico come sempre. E quindi vorrei partire con te Federico con questa domanda. Se allo stato attuale oggi, giorno 23 giusto? Sì, 23 marzo, a un mese esatto di fatto dallo scoppio dell'invasione, si 28 giorni dall'invasione, se si può tracciare una fotografia dello stato dell'arte, insomma, a che punto è questa invasione? È vero che Putin si aspettava uno sviluppo molto diverso da questo? È vero che si aspettava meno perdite? Oppure sta andando tutto secondo i piani? Qual è, ecco, la fotografia che secondo te si può fare a oggi della guerra in Ucraina e dell'operazione che il Cremlino vorrebbe chiamassimo operazione militare speciale, ma noi chiameremo invasione dell'Ucraina? Per quello che è. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti, ringrazio il Circolo dei Lettori per organizzare sempre questi bellissimi incontri in questo luogo meraviglioso. Allora, 28 giorni dopo, come recita il titolo di un film piuttosto splatter, si può disegnare un quadro, sicuramente, di come sta andando la campagna. Per questo prenderei una delle cartine che trovate nel numero che aggiorniamo live, qui con voi, direttamente in sala. Allora, la carta è, come sempre, realizzata da Laura Canali. Questa raffigurava l'invasione russa all'alba del conflitto. La notizia è che non molto è cambiato dagli avanzamenti territoriali che hanno fatto i russi nei primissimi giorni del conflitto. Vedete, le aree in viola scuro sono quelle tendenzialmente con la presenza militare russa. Questo non vuol dire che i russi controllino questo territorio, tutt'altro. Anzi, avrete sentito bene, che controllano pochissimi centri abitati, quasi nessuna città e la città che, di fatto, la più grande che controllano, Mariupol, l'hanno conquistata, la stanno conquistando, a un prezzo di sangue altissimo, distruggendo tutto, tendenzialmente. La campagna russa viene descritta da molti in stallo e questo è certamente vero, perché, come detto, non si è espansa più di tanto rispetto a queste linee di invasione. Infatti, molto probabilmente, nel prossimo numero di linee, toglieremo quelle frecce che indicavano un movimento da parte delle truppe russe che sostanzialmente non c'è stato. Gli avanzamenti territoriali più significativi sono stati fatti nel sud e soprattutto nel sud-est. appunto la città di Mariupol, collegamento essenziale per unire le repubblichette del Donbass, di Daniechke, Luhansk, alla Crimea. Questa potrebbe essere l'unica vera conquista territoriale che rimane alla Russia quando le armi avranno una pausa, non taceranno. Difficilmente si può pensare che la guerra abbia una risoluzione veloce. Questo conflitto resterà, probabilmente non combattendo, ma resterà. Proprio perché la Russia difficilmente lascerà territori che ha conquistato a un prezzo, come dicevo, con un tributo di sangue altissimo, soprattutto degli ucraini, ma anche dei russi. Sulle perdite militari russe si dice molto. Nessuno dice la verità, sicuramente. Gli ucraini hanno tutto l'interesse a magnificare le perdite dei russi. I russi hanno tutto l'interesse invece a dire che no, guai, noi non perdiamo quasi nessuno. Tra l'altro è interessante notare la nazionalità delle vittime che i russi annunciano. Sono quasi tutti russi non etnici, proprio per mascherare alla popolazione il tributo di sangue del ceppo dominante di quello che comunque resta un impero, multinazionale, quello russo. L'idea che ci siano cittadini di serie A, di serie B è insita nella stessa struttura di qualunque impero, in particolare anche di quello russo. Quindi dicevo, magari le domande le facciamo dopo perché altrimenti Orietta non sente che non c'è il microfono. Dicevo, difficilmente la Russia lascerà i territori che ha conquistato e per conquistato intendo dire che controlla. Queste aree nel nord, nell'est, non sono interamente conquistate e controllate. E' uno dei motivi per cui ritenevamo all'inizio, prima dello scoppio della guerra, difficilmente praticabile una conquista dell'Ucraina. Perché i russi avevano stanziato un contingente assolutamente insufficiente per presidiare il territorio una volta che poi eventualmente fosse stato sconfitto l'esercito ucraino. Al momento non sembra neanche questo il caso. Nelle ultime ore le operazioni si stanno concentrando, si stanno registrando movimento in questa zona, lungo la linea del fronte del Donbass. Questa è la linea del fronte che aveva ingannato tutti. Io stesso mi aspettavo che Putin avrebbe fatto qualcosa, ma che l'avrebbe fatto tendenzialmente lì, nell'est, allontanando la linea del fronte, cioè facendo intervenire i suoi per spostare più a ovest il confine delle repubblichette di Daniechk e Luhansk. Bene, questo sembra che possa avvenire nelle prossime ore. Sembra. Ovviamente in guerra i movimenti sul campo dipendono da fattori estremamente contingenti. Però i russi che stanno liberando dei battaglioni da Mariupol, scusate, che stanno premendo da nord in questa zona, potrebbero accerchiare reparti eccellenti che l'esercito ucraino aveva schierato nell'est proprio aspettandosi un'offensiva a fine febbraio. Se questo riesce, ed è un grande se, gli ucraini perdono reparti d'eccellenza e a quel punto, non dico che potrebbero dichiarare la resa, però avrebbero subito un colpo militare molto forte. Anche i russi sono in difficoltà. Sono in difficoltà per la natura stessa di questo intervento che ha disperso le forze lungo una linea del fronte immensa. Questo viene normalmente considerato un errore o comunque segno di una campagna improvvisata, segno che non c'era davvero l'intenzione di invadere la Russia. C'è però un fattore che vale la pena di considerare per rendere più complesso questa ricostruzione, che è quello della dottrina militare russa, già sovietica. Da cento e più anni la Russia fa la guerra non all'occidentale, cioè colpendo con tutta la propria forza un punto, quello considerato il più debole, per sfondare e abbattere il nemico. La fa mandando reparti su una linea del fronte molto vasta che inizialmente ingaggiano una sfida uno a uno che sembra poco superiore, però che ha l'obiettivo di far collassare l'avversario sotto il peso di molteplici pressioni. Ora, che questo sia avvenuto in Ucraina non lo so, con tutta sincerità, però metto lì questo fattore per complessificare il quadro. Non sto dicendo che i russi stanno per vincere, questa è una guerra in cui non sta vincendo nessuno, questa è una guerra in cui si applica in maniera proprio lampante la famosissima, il famosissimo aforisma di Klausewitz sulla guerra. Cioè la guerra non è altro che la prosecuzione della politica con altri mezzi. Questo è un negoziato a mano armata. Quello che vogliono i russi non è vincere sul campo, non è conquistare. Sì, questo collegamento lo vogliono, ma non c'è l'obiettivo di strappare chissà quanto territorio all'Ucraina. L'obiettivo è strappare gli obiettivi geopolitici. Quindi gli obiettivi territoriali non sono preordinati. A esserlo sono gli obiettivi geopolitici, che consistono, ma su questo sono sicuro che Orietta dirà qualcosa a momenti, che consistono sostanzialmente nel imporre all'Ucraina di rinunciare alla Nato. Obiettivo raggiunto, stando a quello che dice il Presidente Zelensky. Smilitarizzarla. Su questo i russi, visto anche le performance non così eccellenti sul campo, hanno dovuto fare un po' di passo indietro, quindi consentiranno all'Ucraina comunque di avere un esercito, anche perché è impossibile togliere tutte le armi che stanno invadendo l'Ucraina da Occidente, letteralmente impossibile, probabilmente ci sono più armi che persone, anzi quasi sicuro. E poi farsi riconoscere il controllo territoriale. Ecco, questo è l'obiettivo che mi porta a considerare che il conflitto in sé non può risolversi a breve, neanche se si mettessero d'accordo domani Putin e Zelensky, proprio perché gli ucraini non accettano già la Crimea e il Donbass persi, figurarsi si accetterebbero tutta la regione attorno a Mariupol. Questo mi fa sperare che ci possa essere un cessate il fuoco, una tregua, nelle prossime settimane, non so quando, non ho la pala di cristallo, però mi fa essere molto dubbioso sul fatto che, insomma, la dinamica che ha innescato questo conflitto non si riproporrà e non ci terrà lì, concentrati per i mesi e gli anni a venire. Anzi, per essere più esplicito, non penso che gli occidentali rimuoveranno mai le sanzioni. Grazie Federico per questo quadro, ci sarebbero molte cose da dire. Si è detto anche, ad esempio, di un obiettivo forse ancora un po' più ambizioso che negli ultimi giorni, però, mi sembrava di leggere sia un po' meno improbabile, cioè quello non solo di chiudere il Mar Dazov, che è quello est, ma di arrivare fino verso Odessa e quindi di fatto escludere dall'accesso anche al Mar Nero o all'Ucraina. Si parlava anche di questa ipotesi, però anche da quello che tu ci dici, verosimilmente si va più verso un obiettivo che non so se definirei minimalista, ecco, evidentemente, ma concentrato... Dipende molto da come va il negoziato. Sulle perdite è interessante perché sono oggetto, ovviamente, del rimpallo di cui ci dicevi tra opposte e propaganda, comunque. In realtà fonti americane hanno fornito delle stime che sono un po' più basse di quelle degli ucraini. Salomonicamente si mettono a metà. A metà, come la questura e gli organizzatori sulle manifestazioni, battute a parte. Sembra, come dire, ragionevole poter dire che però sono perdite rilevanti, sia in termini di truppe sia in termini anche di alti ufficiali perché sono state confermate anche da parte russa diverse perdite di generali o generali di brigata, quindi di livelli militari alti che denota forse anche che qualcosa non è andato secondo i piani, si diceva, no? Cioè, se i generali sono lì vuol dire che forse non è andato tutto come prevedevano. Però vorrei andare da Orietta. Moscatelli, eccoci qua. per fare un passo indietro esattamente a un mese fa e un mese fa ero qui forse su quella sedia, non su questa e ci dicevamo con gli amici di Limes ci chiedevamo quanto sarebbe stato probabile un intervento militare russo in Ucraina e in particolare quanto sarebbe stato probabile un intervento di questa scala, di questa enorme portata, quella che veniva chiamata la full scale invasion, cioè un'invasione a tutto campo. La lettura di quasi tutti gli analisti, io per una volta faccio, siccome i sondaggisti tipicamente ricevono queste lamentele, quando le elezioni non vanno come si prevedeva, ribalto la domanda scherzosamente ma non troppo a Orietta e dico tutti gli osservatori sostanzialmente, quasi tutti gli analisti geopolitici dicevano non ci sarà un'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, gli unici che lo dicevano forse erano gli americani, l'intelligenza americana e forse lo diceva anche con finalità diciamo tattiche, ci racconti Orietta, dal tuo punto di vista, tu sei la kremlinologa di Limes, possiamo definirti così, ci dici com'è che si è arrivati allora a questa decisione che quasi tutti gli osservatori non pensavano che Putin avrebbe assunto un mese fa? Sì, nessuno pensava, quasi nessuno pensava, ma non solo diciamo in Occidente, non eravamo solo noi, intendo noi analisti e noi opinione pubblica generale, ma non lo pensavano neanche a Mosca usando fondamentalmente una regola di base che è quella del buonsenso strategico, nel senso che questa guerra come si prospettava e poi ancora di più come si è rivelata fino ad ora sul terreno non conviene alla Russia, si diceva, potremmo continuare a dirlo, ma poi la guerra è stata dichiarata. In realtà, io credo che ci siano due fattori, se vogliamo guardare alle origini un po' più lontane e poi vediamo invece quelle vicinissime che hanno fatto precipitare probabilmente il quadro verso l'azione bellica, di quelle un po' più lontane, cioè lo scontro che va in scena praticamente da 15 anni tra Russia e Stati Uniti, de facto, insomma, se vogliamo allargarlo all'Occidente possiamo farlo, ma l'interlocuzione del tentativo di confronto e lo scontro quale unico esodo va avanti per 15 anni. Dobbiamo riconoscere, se non altro, a Putin una certa coerenza, nel senso che dal 2007 fondamentalmente, dal famoso discorso di Monaco che ci dice che la situazione, quella che si è creata con il costante allargamento, inesorabile allargamento della Nato verso i confini russi, eccetera, eccetera, per la Russia è insostenibile perché va a ledere i suoi interessi strategici profondi e la sua stessa proiezione proprio di esistenza come potenza. Poi, diciamo, questa è la base, sappiamo che c'è stato un negoziato, c'è chi dubita ora del negoziato, che il negoziato fosse effettivamente il vero obiettivo di Putin e quindi siamo passati alla lettura opposta dal dire non attaccherà mai al sostenere aveva già deciso di attaccare e quindi il negoziato è stato un blef tra l'altro con delle richieste di garanzie di sicurezza talmente alte quelle di vedere la Nato retrocedere alle posizioni del 97 che ovviamente non potevano essere accettabili. Ma se vogliamo andare più sull'immediato cioè cosa è accaduto e perché anche a Mosca ma addirittura insomma nell'entourage dall'entourage di Putin insomma da coloro che il Cremlino lo frequentano e lo consigliano è emersa una una certa sorpresa un certo stupore di fronte alla decisione presa diciamo a un certo punto a metà febbraio con il precipitare del tutto probabilmente ci sono tre fattori poi non lo sapremo forse mai bene del tutto ma due sono diciamo leciti uno è nell'evidenza dei fatti allora i due quali sono uno che di fronte a quello che dicevi tu prima cioè tutte queste anticipazioni americane a questi dati di intelligence che poi abbiamo capito erano dati di intelligence che venevano condivisi in modo irrituale con tutto il mondo Putin a un certo punto ha sentito puzza di bruciato cioè ha pensato visto tra l'altro che questo piano il piano per questa azione militare esisteva esisteva tanto tempo il momento diciamo solitario di Putin è quello in cui lui decide di farlo scattare ma ovviamente insomma l'operazione militare è stata un piano condivisa quantomeno con l'entourage del cosiddetto cerchio magico quindi se c'erano tante informazioni di intelligence che circolavano alcune forse sono supposizioni alcune più precise a un certo punto Putin può aver pensato di avere molto semplicemente una o più spie insomma comunque degli entrati all'interno e questo automaticamente si traduce per qualsiasi leader autoritario autocrate tanto più per un signore come Putin nel pericolo di una di essere spodestato insomma che qualcuno tenti di accompagnarlo all'uscita e questo è il primo fattore il secondo fattore che è diventato diciamo abbastanza credibile una volta viste le prime due settimane di guerra e quindi scomparsa del tutto l'ipotesi di una guerra lampo certamente auspicata se non così prevista in tutto e per tutto al crembino è che ci fosse ci fosse una sponda a Kiev cioè Putin che citava continuamente la denazificazione come uno degli obiettivi della della guerra tradotto dalla narrativa putiniana significa cambio di governo a Kiev cosa che tra l'altro adesso non viene chiesta più certamente non viene più chiesta la testa di Zelensky cosa è cambiato è cambiato che la sponda che c'era a Kiev forse militari qualche politico connesso ai militari o agli oligarchi che insomma stanno ancora al momento a guardare come andrà a finire e ce ne sono alcuni più vicini tuttora alla Russia che all'Ucraina quindi la sponda è stata o intercettata di SPAT con l'aiuto degli Stati Uniti non lo sappiamo ma non c'è stata più e quindi questo ha contribuito a far precipitare le cose una cosa invece il terzo fattore è quello che vediamo ora riflesso diciamo abbastanza plasticamente dall'azione sul terreno è che Putin probabilmente comunque possa aver deciso che stava scadendo il tempo utile per poter tentare una operazione del genere di recupero dell'Ucraina certamente quello che ha detto prima Federico del Sud ma anche appunto un ritorno dell'Ucraina nello status di contendibile perché perché i rapporti sulle progressive continui e crescenti in via di armi da parte americana e non solo insomma da parte occidentale stavano trasformando le forze armate l'esercito ucraino in quello che poi abbiamo visto sul campo cioè in un esercito capace di resistere certamente di resistere ad una guerra condotta con dei metodi non esattamente high tech o modernisti potremmo dire che sono gli hacker già in funzione ma insomma sarebbe così inopportuno scherzi a parte mentre ristabiliamo il collegamento con con Orietta che stava in realtà terminando il ragionamento sui tre fattori eccoci ti abbiamo di nuovo ma no scusa c'era un cyber attacco in corso vai capita con Putin no vi ho persi vi ho persi un altro comunque sì questi tre fattori sono i fattori dell'immediato poi se vogliamo guardare qui insomma comunque non non mi dilungo perché magari spero avrete avuto modo o lo avrete di leggerlo più compiutamente sul sul volume di Limes questa le origini diciamo c'è una proprio ragione profonda che abbiamo visto raccontata dallo stesso Putin in quel discorso anche molto livoroso anche molto pieno proprio di rancore che è andato in onda il 21 febbraio e che de facto è stata la dichiarazione di guerra quella in cui lui ha chiesto il riconoscimento delle repubbliche autoproclamate separatiste del Donbass e in cui lui ha descritto l'Ucraina come un pezzo di Russia sottratto sottratto alla Russia dai bolshevichi tra l'altro è la prima volta che Putin si esprime in modo così forte così esplicito contro contro il diciamo il passato la fase storica bolshevica e alla fine questa è la guerra e qui chiudo è la comunque la guerra di una Russia che continua a cercare con evidenti difficoltà la conferma di essere di essere un impero perché il disegno che c'è alla base che c'è alla base sconfessa le teorie delle aspirazioni di Putin di tornare all'Unione Sovietica ma conferma che per Putin il passato imperiale da recuperare e da ricostituire come sua eredità storica è quella dell'impero slavo delle tre l'impero zarista le tre russe la grande Russia che è l'attuale federazione russa la piccola Russia che è la Bielorussia che per il momento riesce a tenersi agganciato non sapremo per quanto e la no scusate la Russia bianca che è la Bielorussia e la piccola Russia che non è così piccola e che è l'Ucraina Federico volevo anche partire dal saggio a tua firma nel volume di Limes e anche dall'intervista che lo precede che hai curato tu con Mitchell che è stato assistente segretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici fino a un paio di anni fa volevo chiederti insomma un po' l'altro fronte se vogliamo quello americano un fronte lontano ma anche vicino da un certo punto di vista nel volume non so se l'abbiamo anche caricate nel volume ci sono tra le varie tra le molte molte carte di Laura Canali e ce n'è anche una che mostra il processo di allargamento della Nato di cui molto si è parlato eccola qui diciamo sostanzialmente tra la fine degli anni 90 e la prima metà degli anni 2000 tutta quella parte di Est Europa che va dalla diciamo Repubblica Ceca Polonia e su nelle Repubbliche Balti che entra nella Nato e di questo si parla quando si parla del famoso allargamento a Est ci sarebbe molte cose da chiederti sugli Stati Uniti intanto mi è venuto in mente quando parlava Orietta tutta questa insistenza dell'intelligence americana che continuava ad annunciare guardate che attaccherà guardate che attaccherà le questioni di tempo si è detto anche una finalità strategica più che strategica potrebbero dire tattica visto che voi distinguete giustamente tra tattica e strategia ovvero quella un po' di scoprire le carte forse di Putin ma una curiosità che mi è venuta è secondo te quali erano gli elementi di intelligence il tipo di elementi di intelligence che avevano gli americani per essere così certi quando davano quei segnali una talpa al cremlino perché si è detto no le fonti quali possono essere i movimenti sul terreno e quelli li vedono tutti e quelli sono non puoi però capire che giorno attaccheranno in quale modo fabbricando no video e con quale piano di mettere un pupazzo al posto di Zelensky questo non lo puoi vedere con i satelliti quindi diciamo la lettura che poi anche quella di Orietta è che doveva esserci qualcuno nell'entourage più o meno stretto di Putin a conoscenza dei piani e che diciamo ha trasmesso queste informazioni un atteggiamento tra l'altro che torna assolutamente con le abitudini americane cioè quando il gioco si fa duro gli americani tendono a usare la carta della superiorità informativa complessiva quindi anche di intelligence con l'interlocutore mi è venuto in mente quando il capo di stato maggiore anzi il presidente degli stati maggiori riuniti americano generale Milley durante poco prima dell'assalto a Capitol Hill quindi siamo nel gennaio del 21 telefona ai cinesi dicendo se Trump fa qualcosa non prendetelo sul serio non vi stiamo attaccando che era la cosa che stavano pensando i generali cinesi in quel momento che era un modo anche per dire guardate che noi sappiamo che cosa state pensando in questo momento abbiamo accesso alle vostre informazioni quindi quando sono in una fase di difficoltà si giocano questa carta e sicuramente gli Stati Uniti sono in una fase di difficoltà è chiaro che questa guerra fa un favore agli Stati Uniti nel senso che semplifica il lavoro di contenimento della Russia compatta il campo questo lo scrivevamo molto prima dell'inizio dell'invasione gli Stati Uniti cercavano da mesi da sempre da quando è salito Biden al potere di compattare i loro alleati in particolare la Francia e la Germania dietro una visione unica demoniaca della Russia Putin killer vi ricorderete tutti nella primavera del 2021 Biden usare queste parole quindi sì c'è questo vantaggio che gli americani riconoscono chiacchieravo qualche tempo fa con un ex consulente della difesa dell'intelligence americano che mi diceva Putin just made it a lot easier ce l'ha fatta molto più facile con l'operazione di contenimento che gli americani sperano da sempre da 15 anni di appaltare agli europei sempre senza riuscirci sempre perché vorrebbero dedicarsi anima e corpo all'Indo-Pacifico di qui a dire che gli americani hanno istigato Putin ad attaccare ed erano e si sfregavano le mani quando Putin ha fatto guerra beh ce ne passa parecchio lo trovo anche offensivo pensare non per gli americani che come tutti hanno i loro interessi brutti sporchi e cattivi però insomma semplifica troppo il discorso in che senso complica le cose per gli Stati Uniti beh innanzitutto ci sono più di 100.000 soldati americani in Europa per la prima volta dal 2005 quindi questa idea di concentrarsi sull'Indo-Pacifico no poi c'è un concreto rischio di guerra nel senso che si parla tanto di unità nella Nato riscoperta sì abbiamo trovato una ragione sociale alla Nato la Russia dopo che l'abbiamo persa 30 anni fa però ci sono anche delle profonde differenze interne ai paesi dell'alleanza su che cosa fare di questa minaccia comune tutti sono d'accordo che è una minaccia ma non tutti sono d'accordo su come trattarla polacchi estoni romeni cechi slovacchi eccetera farebbero di tutto per per far rinculare la Russia noi no i francesi no i tedeschi sono a metà che i polacchi vogliano fare di tutto è evidente da due cose che sono successe ultimamente la questione della vendita dei MIG aerei di fabbricazione sovietica della vendita della fornitura dei MIG dalla Polonia all'Ucraina la Polonia voleva socializzare tutto questo cioè voleva che fosse una decisione della Nato per non ovviamente esporsi a una rappresaglia mirata della Russia gli americani hanno detto no i polacchi non ci sono stati hanno detto pubblicamente siamo pronti a mandarli nella base Nato di Rammstein Germania e poi voi li mandate in Ucraina Rammstein è qui la Polonia è qui l'Ucraina è qua capite bene che l'unico motivo è politico è dire dovete farlo ovviamente gli americani hanno detto non ci pensate neanche e poi avrete seguito la missione in treno clamorosa dei premier polacco ceco e slovacco mentre Kiev la città di Kiev ordinava un coprifuoco di 35 ore perché si aspettava l'inferno dal cielo nella capitale arrivava al treno con con il polacco il ceco lo slovacco quindi proprio a testimoniare no la che la guerra era di Putin non aveva non stava avendo successo talmente vero che siamo in grado di arrivare fino a Kiev tutto questo sta spaventando molto gli americani perché crea l'effettivo rischio che le cose peggiorino che ci sia un escalation che qualcuno spinga l'alleanza a intervenire oppure che questa eccessiva disinvoltura poi generi un incidente una catastrofe quindi tutto questo è comunque un problema per gli americani geografico e di rapporti interni all'alleanza senza contare poi che tutto questo è vero offre l'opportunità di mettere la Cina davanti a una scelta come stanno provando a fare gli americani in questa fase spingono molto per anche qui mettere a nudo il possibile andare della Cina verso la Russia aiutarla finanziariamente aiutarla militarmente con armi tutto questo serve a metterla davanti a una scelta bene questa pressione pensano gli americani porterà i cinesi a riconsiderare ricalibrare e eventualmente non dico mollare la Russia la Cina non può abbandonare improvvisamente così la Russia a meno che insomma non tiri un'atomica però insomma quello sarebbe un altro mondo se di mondo si potrebbe continuare a parlare non la può mollare però sicuramente può non aiutarla e questo è quello che sperano gli americani però c'è anche il rischio che le cose poi vadano vadano male che se li inizi a trattare come effettivi alleati questi due dicano beh non c'è altra soluzione che allearci davvero quindi la situazione presenta enormi rischi per gli americani anche perché e ne parlo diffusamente nell'articolo c'è una scarsa propensione della popolazione a impegnarsi per l'Ucraina c'è zero propensione militare nel preguerra Biden si è comportato così anche perché leggeva i sondaggi sicuramente c'è una parte di propria avversione alla guerra che lo rende quindi espressione della collettività da cui è stato eletto da cui è stato scelto che Biden tra l'altro diceva che l'allargamento della Nato era un errore lo diceva 27 anni fa poi in Afghanistan è sempre stato contrario addirittura l'unico nel gabinetto di guerra a un aumento delle truppe sul campo nel 2009 2010 lui proponeva una strategia completamente diversa e ha fatto poi vedere di essere non troppo dissimile da Trump in politica estera quando ha completato l'opera cominciata dal magnate new yorkese ossia ritirando davvero le truppe americane che Trump aveva detto che sarebbe stato fatto entro l'estate scorsa quindi abbiamo un presidente restio alla guerra che interprete però fido interprete del sentimento popolare sentimento popolare che non vuole guerre in questo momento se non per questioni esistenziali cioè Taiwan gli americani sarebbero disposti a difenderla l'Ucraina no inizialmente sembrava che gli americani il popolo intendo non fosse nemmeno disposto a sostenere troppi sacrifici e in questo Biden non è stato attento interprete dell'umore popolare perché Biden ci teneva fin troppo a chiarire che gli americani non avrebbero tanto sofferto alle pompe di benzina a causa dell'aumento dei prezzi conseguenti alla guerra ma non solo dopo però alcuni sondaggi e anche insomma analisi qualitative dell'opinione pubblica hanno detto che invece gli americani erano disposti per punire la Russia a pagare di più la benzina e questo è comunque un segnale che ci conferma come esista una popolazione che ok non sarà più così disposta a esportare la democrazia queste follie dei decenni scorsi però che è disposta a far sanguinare il nemico è disposta a difendere la propria influenza nel mondo e qui mi ricollego all'intervista a Mitchell che non solo è stato al dipartimento di stato e si occupava tra l'altro proprio di Bielorussia Ucraina eccetera quindi una voce molto importante ma ha curato anche per gli americani il rapporto Nato 2030 che l'alleanza atlantica ha licenziato due anni fa o l'anno scusso sì penso l'anno scorso ecco questa persona dice apertamente che bisogna far sanguinare la Russia bisogna indurla alla sconfitta strategica che le fa cambiare orientamento in politica estera il paragone diretto gli americani adorano i paragoni sono gli inventori della politologia quindi non possono che fare questi modelli un po' astratti ma il paragone è la sconfitta a Tsushima nel 1904-5 quella sconfitta innescò la fase finale dell'impero dell'impero zarista già una prima rivoluzione nel 1905 poi il colpo di grazia nel 1917 quello spinse però nell'immediato lo zar a stringere un patto poi con l'Inghilterra eduardiana questo è il calcolo che fanno gli americani trasformiamo l'Ucraina in quella sconfitta che fa cambiare di calcolo Putin mi sembra un piano troppo bello perché vada a finire bene tra l'altro che dà anche il titolo peraltro all'intervista a Mitchell ed è un po' un non detto ma neanche troppo non detto nell'amministrazione americana e nei commentatori l'idea è per gli americani sembra essere facciamo in modo che l'Ucraina diventi l'Afghanistan di Putin questo è il il senso cioè che si impantani con una differenza scusami dall'Afghanistan il paragone con l'Afghanistan sovietico però in quella crisi in quella guerra gli americani non erano platealmente dietro i Mujahideen tutti lo sapevano però nessuno lo diceva pubblicamente c'era nel Pakistan e l'Arabia Saudita che facevano il lavoro sporco oggi no oggi invece lo dicono apertamente quindi sono effettivamente cobelligeranti come lo siamo anche noi italiani che abbiamo annunciato pubblicamente che mandiamo armi l'ha detto ieri Draghi tra l'altro lo ha ricordato a Zelensky che è ringraziato di tutto a parte che delle armi allora Draghi metaforicamente si intende ha alzato il ditino e ha detto vi inviamo anche armamenti tra l'altro gli stessi che gli americani mandavano i Mujahideen contro i sovietici chiusa la parete tra l'altro piccola nota da osservatore della comunicazione politica molti si attendevano che Zelensky avrebbe citato la resistenza italiana nel suo intervento a Montecitorio così come ha citato molti parallelismi storici negli altri parlamenti non l'ha fatto meno male non l'ha fatto ma in realtà indirettamente lo ha fatto Draghi quando ha detto riforniremo di aiuti anche militari la resistenza ucraina non è stata una scelta neutrale credo quella di quella parola evidentemente non c'è stato un richiamo diretto potrebbe essere stiamo un po' scadendo nella chiacchiera di cronaca ma poi ridiamo la parola a Orieta ma dico sai che può essere perché oggi rispondendo alle camere a un'interrogazione parlamentare Draghi ha detto bisogna fermare in qualche modo Putin perché altrimenti è come se stessimo avvallando la guerra di conquista sua e come si poteva aver fatto in passato per Hitler e per Mussolini silenzio in aula e quindi insomma parallelismi parallelismi vari che tornano anche nella narrazione qui potremmo parlare a lungo anche di come viene raccontato questo conflitto dalle parti in causa e non solo però volevo tornare da Orieta perché è autrice di un articolo molto interessante su un aspetto diciamo culturale che però incuriosisce cioè il fatto che insomma ci dici l'insegnamento della storia nelle scuole russe sarà un po' meno eurocentrico e sarà un po' più orientato sull'Asia come a dire anche di un di un intreccio che non è solo geopolitico con la Cina evidentemente e più che chiederti di questo aspetto su cui però sicuramente se hai voglia di dirci qualcosa lo ascoltiamo molto volentieri la domanda che volevo farti e i russi il famoso fronte interno russo è compatto dietro a Putin è diviso è diviso ma meno di quello che pensiamo è possibile capirlo in un paese così difficile da leggere e sottoposto a una repressione con tutta evidenza dal punto di vista della libertà di stampa soprattutto in questo periodo come la Russia Allora il quadro sì è molto complesso è difficile da leggere sia per quello che hai detto evidente insomma in una di fronte ad un'opinione pubblica che subisce ma anche assimila quotidianamente dei metodi di censura poi ti viene subito da pensare e dobbiamo metterlo in conto anche il timore di esprimersi contro da una certamente una parte della popolazione allo stesso tempo però dobbiamo tenere conto che questa censura implica che una maggioranza della popolazione se togliamo Mosca se togliamo i giovani che comunque continuano andare a informarsi sui siti di Mezzomondo perché con la BPN puoi continuare puoi bucare la censura putiniana se escludiamo quella classe media delle grandi città di Mosca San Pietroburgo e poco altro che ha una proiezione una proiezione non dico filo occidentale ma di apertura verso il mondo ecco escluso questa parte della popolazione che comunque resta minoritaria il russo della Russia profonda che alla fine rappresenta non solo lo zoccolo duro elettorale di Putin ma la maggioranza della Russia ascolta quello che che gli racconta ascolta la versione dei media ufficiali e quindi le sue opinioni vengono plasmate da questo in più e questo è un gradino più in fondo nel tentativo di spiegare di capire la Russia l'elettore di Putin quindi l'abitante della Russia profonda dove in fondo la vita negli ultimi trent'anni non è cambiata tantissimo e che ha ancora tante buone ragioni per sentirsi un offeso e umiliato dalla storia ha bisogno di sentire quel tipo di discorso ha bisogno di sentirsi dire che la Russia ha diritto ad essere una potenza che l'Occidente da vent'anni almeno anzi non ha mai smesso di essere un nostro nemico e di cercare l'obliterazione della potenza russa quindi quello che ci dicono in modo forse probabilmente quasi di sicuro un po' esagerato i sondaggi ufficiali ce lo dicono anche dei sondaggi che ci sono che ci sono ufficiosi in parte indipendenti altri ci sono dei gruppi anche di giovani che stanno facendo dei loro sondaggi e ti dicono che ancora ancora parlo di una settimana fa il quadro può cambiare ma ancora c'è una maggioranza di opinione pubblica favorevole può cambiare certamente molto importante forse ancora di più delle dell'esito delle conseguenze delle sanzioni è il fattore vittime vittime sul sul terreno in Ucraina perché e qui vi do e con questo chiudo una pillola di criminologia una delle ragioni forse la più cogente comunque la più profonda di non chiamare non volere mai che quello che l'invasione dell'Ucraina sia chiamata guerra ma operazione militare speciale è proprio perché in questa narrazione storica di cui parlo in questo articolo ma che insomma adesso non è il caso di andare a rievocare l'Ucraina è descritta sì come un non stato e a noi appare questo offensivo ma è descritta come un non stato proprio perché russi e ucraino fanno parte di uno stesso popolo quindi non puoi parlare di guerra ma di un'operazione speciale militare sottinteso ma nemmeno tanto che ha lo scopo di normalizzare la situazione e i rapporti con l'Ucraina poi alla fine abbiamo il paradosso che probabilmente questo mese di guerra ha fatto per l'unità interna Ucraina molto più di quello che ha fatto otto anni di politiche filo-occidentali diciamo l'eterogenesi dei fini in un certo senso e anche il consolidamento interno e esterno della figura di Zelensky affascinante perché lui a proposito di sondaggi prima della guerra era un presidente molto impopolare molto debole in Ucraina e poi diciamo per quello che viene chiamato l'effetto bandiera che si ha sempre in un momento di crisi ma anche secondo me per come ha costruito la narrazione dell'Ucraina resistente ha costruito un enorme consenso intorno a sé in questa fase poi tutto è ovviamente più che volatile direi che possiamo accogliere qualche domanda del pubblico di chi è qui in sala sicuramente ce ne sono vedo già delle mani alzate quindi arriverà un microfono per voi mentre arriva il microfono pensiero mentre parlavo orietta ci pensavo leggevo non so più forse su foreign policy recentemente Putin l'opinione pubblica la può gestire gli oligarchi anche il punto di domanda è gli apparati cioè un po' quello che dicevi anche tu prima sulle crepe all'interno del potere del Cremlino magari dopo ci torniamo c'è una domanda? sì buonasera prego allora io volevo mettere un po' a fuoco quello di cui si è parlato prima cioè diciamo della correlazione invasione con l'espansione della Nato e voi che siete diciamo analisti geopolitici credo che possiate un po' meglio specificare e farci capire anche il vostro punto di vista un pochino più chiaro su questo mi spiego allora si è detto ma lo si sa anche da tempo che diciamo lo sguardo americano e la politica americana negli ultimi anni era più verso l'Indo-Pacifico che verso la Russia come interessi geostrategici sappiamo che qualche anno fa lo stesso Macron definiva la Nato in uno stato diciamo di morte diciamo celebrale sappiamo che chiedo solo di arrivare alla domanda perché se no non ci stiamo sì sì ok l'espansione della Nato secondo questi elementi l'ultimo diciamo il numero di soldati americani sempre in diminuzione negli ultimi anni ecco si può parlare allora di reazione o di azione di Putin dal punto di vista dell'invasione ok grazie chi risponde faccio Orietta visto che prima Federico un po' l'ha citato questo elemento andiamo da te ok allora azione o reazione entrambe le cose in realtà o forse prima reazione e oggi e cerco di spiegare velocemente azione nel senso che certamente tra il periodo diciamo il periodo che va dalla fine dell'unione sovietica quindi insomma il 91 e il 2007 la Russia cerca in qualche modo di rientrare nel gioco europeo di di farsi uno spazio di farsi dare un posto al tavolo dove a suo avviso ed è ancora quello che ci dice oggi Putin con altri con altro tipo di discorso si deve decidere il diverso sistema di sicurezza europea gli Stati Uniti non ci sono stati allora qui siamo nella dimensione di reazione che è quella fondamentalmente che abbiamo visto che abbiamo visto nel 2014 no? quando il quando il confronto diventa apertamente scontro e di fronte a quello che Mosca percepisce e descrive apertamente con un colpo di Stato cioè un cambio di regime il collocamento lo spostamento del collocamento dell'Ucraina in un giro di una notte dal qualche problema nella sfera russa in modo saldo nell'orbito occidentale allora lì scatta la reazione russa che è la reazione personale anche di Putin di quella di annettere la Crimea per cercare di coprire il disastro per lui epocale esistenziale di aver perso l'Ucraina quando diventa azione quando Putin un po' alla volta da quel momento in poi e di nuovo insomma dobbiamo ammettere che in fondo ce l'ha costantemente detto dicendo non si deve arrivare al massimo quando all'irreparabile quando Putin decide che a quel punto spettava alla Russia fare una mossa che era quella uno di tentare forse il negoziato due altrimenti di andare alle estreme conseguenze che sono quelle che vediamo oggi in campo questa è già non reazione ma azione ecco Rietta ha detto a un certo punto gli americani non ci stanno alla richiesta russa di essere coinvolti provo a rispondere faccio la domanda e mi do anche la risposta sono proprio pessimo però per venire incontro anche alla sua richiesta perché gli americani non ci stanno a quel punto perché intanto sanno che se dai un ruolo alla Russia la Russia in qualche modo s'allarga e gli ucraini lo sanno molto bene questa crisi nasce anche perché c'è un popolo che non accetta di stare sotto un altro popolo in posizione subordinata questo è uno dei meccanismi fondamentali perché se no non si capisce perché 40 milioni di ucraini resistono a questa guerra quindi c'è la determinazione al punto di rischiare la pelle e di rimettercela anche di uscire dalla sfera di influenza di qualcuno questo mi fa mettere l'accento anche su le popolazioni che stanno in mezzo tra americani e russi che stanno attaccate ai russi cioè c'è una richiesta anche di venire protetti dagli americani e a quel punto gli americani come reagiscono? ce lo chiedono dobbiamo farlo in qualche modo era una fase quella in cui c'era una grande tracotanza americana in cui ci si assumeva gli impegni in maniera molto liberale adesso il vento è cambiato perché si è visto che ci si è spinti troppo in profondità questo tra l'altro l'ho detto in un lo rivendico l'ho detto in un video di Limes a metà gennaio che gli americani si erano accorti di essersi spinti troppo in là troppo a est solo che quando hai un territorio nella tua disponibilità come era l'Ucraina fai grossa fatica a lasciarlo perché hai creato nel frattempo delle aspettative poi altro fattore del perché viene insomma viene detto di no alle richieste russe il fatto che comunque la Russia svolge un ruolo di di collante a livello politico e burocratico ci sono interi politici ma soprattutto interi pezzi della burocrazia che si sono costruiti una carriera una una certa fama grazie al contenimento dell'Unione Sovietica e il fatto che fornisse sempre un alter ego dal punto di vista ideologico la Russia ha consentito la sopravvivenza di questa di questa narrazione di dire sempre di no ai russi tant'è che tutti i presidenti degli Stati Uniti nel terzo millennio hanno provato a fare un raggiungere un intendimento con i russi persino Biden quello che ha fatto con il negoziato disperato però è sempre andata a finire male a causa anche dell'opposizione degli apparati o del congresso che mantenevano in piedi i programmi che il presidente voleva chiudere e che ai russi non piaceva ultimo dato storico l'America è entrata in Europa quando la Russia ne è uscita nel 1917 sono due potenze che non possono andare d'accordo hanno ambizioni troppo simili per poter trovare un accordo mi rendo conto che è brutto finire con un discorso di gioco a somma zero però letto in prospettiva storica nella sua brutalità è così posso aggiungere una cosa si vedeva anche rispetto alla carta quando si parla di espansionismo nato ma lo dicevi tu stesso erano quei paesi che volevano entrarci la Polonia il nostro direttore lo cita spesso o entriamo nella Nato o ci facciamo la bomba atomica non per caso forse visto anche la sorte che sta toccando a un paese che nella Nato non c'era ancora e probabilmente non ci sarebbe stato comunque come l'Ucraina quindi ecco forse oggi è un po' più facile dare diciamo fare distinguo se si è sotto l'ombrello della Nato forse gli ucraini però ultimissima cosa sicuramente l'allargamento della Nato ha consentito all'elite più dura e pura della Russia di validare la propria narrazione cioè di dire abbiamo ragione vedete e quindi ha rafforzato in qualche modo quella parte di potere ottimo ci sono altre domande sì vedo una mano laggiù buonasera a tutti sento sempre parlare di Putin e la mia domanda è questa fino a che punto Vladimir Putin è la Russia fino a che punto esiste un governo russo e fino a che punto invece è Vladimir Putin la seconda domanda è collegata a questa e fino a che punto tutto questo problema dell'Ucraina per la Russia è un problema reale tale da andare incontro a tutte le conseguenze economiche di isolamento politico e quant'altro o fino a che punto può essere semplicemente un delirio una una follia una legata alla mente del signor Vladimir Putin partirei sempre da Orietta se sei d'accordo Federico nella risposta che si tocca anche un po' con quello che dicevamo prima sull'apparato la Russia Putin ha un potere enorme ha un potere dal 2000 mi pare quindi da più di vent'anni con l'intervallo di quattro anni in cui fece il primo ministro perché non poteva fare il presidente però la Russia è un paese con degli apparati abbastanza importanti ed è anche un paese che storicamente poi tu lo conosci molto meglio e ce lo racconterai storicamente ha trovato il modo diciamo di dare una continuità a sé sacrificando anche il leader del momento o il presunto aspirante aspirante al trono ecco diciamo che il sistema bisogna fare una differenza e oggi questo è il nodo che sta venendo un pochino al pettine russo tra sistema di potere governo in senso molto ampio e quel cerchio sempre più ristretto che alla fine non è solo Putin ma è Putin e chi la pensa come Putin chi crescentemente è quasi in questa simbiosi in questo gioco di specchi con Putin perché quando sei al potere da vent'anni ti crei credo inevitabilmente una cerchia che tende a dirti quello che ti dice tutti i giorni e che ti vuoi sentire dire questo è un grande problema della leadership di Putin a questo momento e che comincia a dargli dei problemi di stradismo allora il sistema putiniano in quanto tale è molto articolato all'interno tante componenti compreso per quanto radicale una componente liberal cosiddetto progressista con un altro atteggiamento mentale e politico nei confronti dell'Occidente ma questo è residuale quello che è accaduto e che va un po' ad annullare o comunque a ridimensionare molto il peso degli apparati inteso proprio come base e come continuità dello Stato è il è il fatto che negli ultimi anni questo regime è sempre più chiuso e che ha bisogno di chiudersi per potere per poter garantire la propria sopravvivenza quindi sempre più autoritario in questo sistema di potere ha preso nettamente il sopravvento il cosiddetto blocco dei silovichi gli uomini forti intelligence ministeri dell'interno della difesa non i militari ma la parte governativa ecco all'interno di questo gruppo molto ristretto che è riassumibile nel consiglio di sicurezza nazionale quello che abbiamo visto messo in fila il 21 il 21 febbraio con Putin che chiedeva tutti cosa ne pensi mettendo una situazione di totale imbarazzo quelli che forse la pensavano ancora un po' diversamente da lui in quel consiglio di sicurezza è riassunto il nucleo più ristretto che ormai ha perso veramente ha tolto gli orneggi rispetto al resto del sistema di potere in senso più ampio questo alla fine potrebbe portare a quello che i russi in particolare gli analisti russi dicono questo tipo di sistema se finisce finisce nel giro di una notte al momento è ancora la principale garanzia di proseguimento e di sopravvivenza del sistema putignano perché pensano tutti con la stessa testa questo è un virgolettato di di un insomma che metto nel invece in un pezzo del prossimo del prossimo numero è quello che ti rispondo la mosca quando dici ma c'è un dissenso all'interno quindi non è più Putin come tale che è sempre insomma un dato relativo quello del singolo leader ma c'è una forma ristretta un liofilizzato degli apparati russi che si è allineato sulle posizioni putiniane ormai lo penso allo stesso modo e continuerà a farlo probabilmente sino al giorno in cui crolla tutto non credo che arriverà dopo domani non so se vuoi aggiungere qualcosa Federico sulla ipotesi diciamo della non lucidità ma anche la non lucidità mi pare fosse la seconda domanda quanto può esserci un elemento anche personale la guerra l'ha ordinata una persona l'hanno preparata in migliaia una persona non basta a mandare 200.000 soldati a preparare dei piani di guerra eccetera qui c'è un apparato che gli ha costruito che ha partecipato e che Putin ha voluto rendere complice proprio con quella messa in scena televisiva Orietta con questo ne abbiamo parlato spesso li ha messi tutti per renderli complici della sua decisione per dire guardate che questa l'avete fatta anche voi magari non eravate d'accordo sul scatenare la guerra così in questa fase con queste condizioni con gli americani che hanno già svelato tutto però l'avete preparata con me quindi o me coincolume sarai lo giuro o sul patibolo verrò con te Giuseppe Verdi mi è venuta così scusate ci stava bene un paio di domande credo che possiamo ancora accogliere o magari diciamo stringiamo i tempi di risposta così ne ne accogliamo tre volevo domandare una domanda che avevo già fatto prima all'inizio da dove vengono questi soldati che non sono russi ma sono di altra etnia da Kazakistan non so da dove poi e poi volevo chiedere se c'è il rischio che il conflitto si allarghi ancora ulteriormente e poi volevo chiedere anche fino a cinque settimane fa insomma l'Ucraina ha accettuato Crimea e Donbass come sfera di economica diciamo così aveva già era già abbastanza anche sotto la sfera di influenza economica tedesca come lo è la Polonia o la Slovacchia non so o no ecco ok un bel po' di carne al fuoco in questa in questa serie di domande cosa facciamo le raccogliamo tutte o diventano troppe le vogliamo raccogliere abbiamo etnia dei soldati espansione del conflitto la terza è un po' più difficile da riassumere ma ok ok chiaro chiaro prego io volevo chiedere se siccome sarà una crisi lunga a chi gli Stati Uniti hanno deciso di delegare questa crisi in Occidente se stiano temporeggiando con le elezioni francese per capire se Macron verrà confermato ed eventualmente essere la nuova leadership europea per così dire che dovrà confrontarsi poi con Putin sempre nel futuro ok spoiler verrà confermato direi al 99% qui entriamo nel tuo campo non è praticamente appassionante la campagna francese sembrerebbe quindi verrò smentito l'ultima qui così poi rispondiamo a tutte insieme ah no sono due sono due sono due diverse anche di là raccogliamole tutte raccogliamo e facciamo una riflessione finale tre considerazioni velocissime eh no guardi però delle domande sì la domanda allora prende esempio dal suo collega avete l'impressione avete finalmente l'impressione che il mondo cosiddetto libero rispetto alla resistenza ucraina ci sta ricordando i valori della democrazia contro le autocrazie ok io nel 73 sono stato in Russia no mi scusi però per rispetto nei confronti altri casi potevo ricordarvi che in Russia la servitù della club è stata tolta solo nel 1861 va benissimo quando qua in Italia c'erano i comuni però insomma mi pare che lo spunto per una riflessione ci sia sì sente Orietta solo che non ci sente Orietta effettivamente senza microfono poi rispondi tu Federico non è un problema allora con calma abbiamo una di qua e poi chiudiamo qui allora io mi ricollego alla Draghi al discorso che in realtà gira da un po' del fatto che adesso da voglio entrare nella Nato a voglio entrare nell'Unione Europea quanto questo possa essere fattibile visto che per entrare nell'Unione Europea ci sono degli step molto lunghi e quindi come possa essere più una narrativa come retorica per accaparrare consenso diciamo secondo Bosnia-Herzegovina doveva entrare dentro l'Unione Europea ma sta avendo influenza con la Russia ha sempre avuto un po' di influenza e quanto quindi l'Ucraina possa influenzare anche l'entrata nell'Unione Europea della Bosnia-Herzegovina e la Russia e la Turchia scusi visto che è sempre un po' con l'Europa un po' conflitto pace conflitto pace direi che andiamo a chiudere con questa domanda qui poi la prossima la facciamo solo di domande del pubblico perché ce n'è una quantità facciamo una puntata di Lime se risponde ma esatto rapidamente quante possibilità ci sono che qualcosa sfugga e succeda un qualcosa da due o dieci chilotoni e la chiudiamo non solo per l'Ucraina ma per l'intero pianeta perché le cose iniziano sempre così vuoi il 1914 vuoi il 1930 poi adesso come ha detto quella bellissima frase di Einstein solo nessun topo costruirà mai una trappola per topi invece noi siamo riusciti a costruire la bomba atomica quindi questo cambia tutto grazie io vorrei che non succedesse sia chiaro grazie avevamo il dubbio ha avuto anche effetti di deterrenza positivi negli anni come è noto lo strumento è l'ultima domanda sì cioè ci sarà una catastrofe nucleare e andiamo a chiudere lì allora io direi che sentiamo prima Orietta su quello che vuoi ovviamente a partire dalle molte domande che sono state formulate e poi chiudiamo con Federico va bene quelle sulle etnie di sicuro e poi dopo il grosso lo lascio a Federico che è più bravo nell'essere sintetico allora la Russia è un paese multietnico quindi già qui abbiamo la diversità etnica insomma all'interno del dell'esercito e tutt'assieme sono credo quasi 300 ma anche le grosse etnie sono ben rappresentate c'è un grosso problema per l'esercito in questo momento e per i vertici russi cioè che ci sono tanti ucraini tanti ucraini o di origine ucraini e dentro l'esercito e questo chiaramente è una complicazione netta a cui cercare di subire mandando i russi e le altre etnie le etnie che sono molto rappresentate soprattutto nella parte professionale cioè nei militari di carriera sono i caucasici in particolare i caucasici rappresentano nel gruppo e nella figura anche del loro leader i ceceni relativo Kadiborov quella parte insomma di federazione russa che se poi la mandi in giro a menare le mani alla fine è anche sempre contenta contrariamente ai russi in questo momento e la Russia ha anche chiesto al Kazakhstan dell'invio di forze è stato rifiutato non è da escludere che ci sia un'insistenza in questo senso probabilmente con più risultato sul fronte bielorusso visto che la Bielorussia insomma ha dei debiti e un grado di dipendenza molto alto nei confronti della federazione e l'ultima una battuta sull'ultimo intervento insomma la possibilità che poi si arrivi all'esplosione fatale io sinceramente penso che le probabilità siano molto poche ma già poche sono assolutamente troppe non credo che Putin possa essere talmente diciamo ossessionato io non credo la sua follia ma talmente ossessionato dai problemi di potenza della Russia da arrivare a spingere ad un certo punto il bottone ma credo che ci sia una parte residua di rischio comunque il pericolo è tanto anche se residua di il cosiddetto incidente sul confine occidentale dell'Ucraina in particolare dove praticamente il confine è con la Nato a quel punto lì cosa facciamo ecco a quel punto lì le cose si complicherebbero veramente in modo pericoloso le altre domande le lascio Federico o magari rispondo anch'io ma adesso non le saperebbe mettere in fila uno dopo l'altro su quello che è rimasto a cui rispondere ovviamente per amore di dibattito Orietta ti dico la mia sull'allargamento del conflitto non penso che un incidente a questo punto possa fare scattare a livello successivo dipende che incidente dipende che incidente chiaramente però l'incidente lo possono superare dicendo letteralmente ci siamo sbagliati una parte e l'altra io credo che sia una cosa che può far scattare il conflitto è questo mandarsi messaggi un po' scriteriato quindi ti bombardo il convoglio militare il deposito di armi il centro di addestramento dove ci sono mercenari barra volontari insomma a seconda del lato della propaganda e poi il rischio dell'allargamento del conflitto è essenzialmente credo dato dalle ansie al confine dei paesi europei e dal rischio che questo conflitto si prolunghi ed eventualmente che porti armamenti russi vicino alla frontiera vicino al fronte della Nato ecco questo però siamo ancora abbastanza lontani fortunatamente sembra ancora un conflitto relativamente limitato Putin Putin non sta riuscendo a mandare a mettere gli Iskander in Transnistria per dare una cosa molto concreta l'Ucraina nell'Unione Europea allora l'Italia ci ha comunicato il nostro Premier è diventata il principale sponsor di questa iniziativa in Europa occidentale cosa vuol dire vuol dire che fallito l'ingresso nella Nato ripieghiamo sul cuscinetto l'Unione Europea l'Ucraina e qui già rispondo all'altro del pubblico era già associata all'Unione Europea sotto tutta una serie di profili economici era molto collegata all'economia mondiale non era una propaggine dell'economia russa anzi che so interi stabilimenti di produzione di automobili sono fermi perché l'unico centro di produzione dei fili che stanno dentro le automobili sono 5 km di fili a vettura è stato bombardato e distrutto per non parlare ovviamente di quello che sapete tutti della filiera agroalimentare quanto ha senso far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea molto poco da un punto di vista concreto è una mossa puramente simbolica che un paese in difficoltà come il nostro ha come unica ancora per provare a dire no noi contiamo qualcosa facciamo qualcosa avete visto che siamo stati completamente esclusi dalle interlocuzioni di alto livello Draghi si è rinfilato solamente l'altro giorno con la telefonata con Biden dopo però tre settimane in cui non era stato minimamente consultato a questo servono queste iniziative a dare un po' di slancio diplomatico a un paese in difficoltà appunto il nostro quanto ad appaltare il contenimento della Russia quali sono i paesi a cui si pensa inizialmente gli americani stavano pensando unicamente a Polonia e Romania questo l'anno scorso gli anni scorsi eccetera perché sono i paesi un po' più grandi un po' più capaci eccetera ora invece si parla di un presidio militare americano e nato lungo tutta la fascia che va dal Mar Nero a Caponord sostanzialmente e questo è un dramma per il nostro paese perché perché è sempre stato ovviamente lo spostamento della cortina di ferro centinaia di chilometri a est un problema per un paese che ci aveva lucrato sulla sua rendita di posizione come il nostro però ora che le cose si sono nettamente sbilanciate verso la guerra calda noi che siamo lontani da quel teatro ne siamo completamente esclusi peggio rischiamo di dover contribuire anzi contribuiremo a un schieramento nato molto lontano dai nostri interessi geografici prioritari quindi sì bene faremo la nostra parte per contribuire alla difesa collettiva ok sarebbe stato bello che questo si potesse fare anche aumentando il profilo del nostro paese quindi nel Mediterraneo quello che credo dovremmo fare è prepararci a grossi dissesti lungo la sponda sud del Mediterraneo proprio per il discorso alimentare ci sono paesi che interamente dipendono dal grano russo o ucraino che rischiano la fame e ricordiamo che nel 2010-11 la fame spinse gli arabi a sollevarsi nei vari paesi Nord Africa e Medio Oriente quindi io credo che se c'è una cosa a cui può servire quel contingente da 5.000 militari che è stato approvato ieri l'altro dall'Unione Europea non è andare a fare la guerra con 5.000 uomini non si fa niente non servono non ne bastano 200.000 per conquistare l'Ucraina figurarsi quello che può servire è un contingente di intervento rapido per crisi non interstatali cioè non guerre tra stati ma appunto crisi in paesi dove ci sono improvvisi sfaceli eccetera e questo vagamente può essere una buona iniziativa per l'Italia cioè se ci mettiamo non dico a capo però se cogliamo questa opportunità e la inquadriamo come forza di intervento mediterranea ecco che allora possiamo fare qualcosa mi rendo conto una chiusura un po' minimalista però volevo dare un barlume di speranza per per no concreto per fare qualcosa per trarre da questa crisi che obiettivamente ci spiazza completamente un qualcosa di utile ecco di come piace dire adesso positivo anche perché di anche l'allargamento del conflitto ma se ne è parlato prima mi pare all'inizio sì 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 il rischio di ne abbiamo parlato no voglio dire abbiamo parlato tra l'altro poco di Italia e non è un caso forse che l'Italia non sia emersa tra i primissimi temi ma bene hai fatto a citarla in chiusura allora La Russia cambia il mondo tra l'altro questo è un volume un numero di Limes che è stato quasi introvabile in queste settimane in questi giorni ho molti amici che mi chiedevano cerca di accapparrarti delle copie perché non lo trovavano voi lo trovate qui all'uscita se lo volete credo abbiate fatto un sacco di ristampe rispetto al solito c'è un'attenzione sui vostri temi che ovviamente è straordinaria noi ci rivediamo il 20 aprile e parleremo di possiamo anticiparlo? come ci cambia la guerra sarà una discussione molto italiana ed europea di cui ho fatto oggi il trailer grazie Orietta Moscatelli Federico Petroni e a tutti voi buonasera grazie ciao grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi